Avete mai fatto i cornetti di pan brioche? No! E facciamoli insieme. Mettiamo farina, lievito, zucchero, latte, uovo, burro e vaniglia. Facciamo mescolare il tutto e lasciamolo crescere per circa due ore. Una volta che è raddoppiata del suo volume facciamo delle piccole palline e lasciamole crescere per altri 30 minuti. Una volta cresciuti stendiamoli in piccoli dischi e mettiamoli l'uno sull'altro. Continuiamo a stendere il nostro impasto fin quando non è completamente allargato e di circa un centimetro. Facciamo dei piccoli triangolini e poi arrotoliamoli su loro stessi formando dei cornetti. Facciamoli crescere altri 30 minuti, mettiamo su dell'uovo e cuociamoli a 180 gradi per circa 10-12 minuti. Ed eccoli qua! In cucina con mamma vi auguro un buon appetito! E mi raccomando restate sazi!